Dopo il caso di Stefano, per la coalizione di centrodestra arrivano nuove fibrillazioni a seguito del blitz dell'Udc che a sorpresa all'ultimo minuto ha messo in lista Marianna Scoccia, moglie dell'ex assessore della giunta d'Alfonso Andrea Gerosolimo, e Mario Olivieri, ex consigliere di maggioranza del centrosinistra. Candidature che a caldo hanno scatenato l'ira del candidato presidente Marsilio e la conseguente cacciata dell'Udc dal centrodestra. Ieri, all'Aquila, c'è stato un breve vertice tra i leader regionali del centrodestra e alla fine una timida apertura al rientro a patto che l'Udc ritiri le due candidature incriminate che a detta di Marsilio contravvengono ai patti preesistenti. Io sono una persona seria e tendo a credere alla buona fede delle persone con cui parlo perché io sono fatto così, sono una persona seria e sincera. Naturalmente quando la mia fiducia viene tradita reagisco di conseguenza e su questo argomento vorrei mettere la parola fine. Adesso pensiamo alla campagna elettorale. Sempre Marsilio ieri sera è intervenuto anche alla presentazione della candidatura di De Renzis nelle liste della Lega. L'esponente leghista chiede agli abruzzesi di dare fiducia al partito di Matteo Salvini dal quale anche Marsilio si attende un contributo importante. La gente in Abruzzo ad oggi ha solamente un sentimento che è quello della rassegnazione e non è possibile che l'Abruzzese sia rassegnato ma l'Abruzzese deve tornare ad essere protagonista. Io ci credo e dal 10 febbraio tutti quanti insieme possiamo davvero cambiare le cose. Sono sicuro che la Lega darà un contributo decisivo alla nostra vittoria, ne sono felice, altrettanto faranno tutti gli altri partiti e dopodiché l'11 febbraio naturalmente conteremo i voti di tutti e sono certo che la Lega avrà un importante risultato.